buonasera è sempre forza Napoli perché tutto riesce come ben sapete è sempre un'ezza e si chiede come conto parrucchino topata proprio con i conti vogliamo parlare stasera perché giustamente senza Napoli non si può stare a parlare in un parrucchino topata beh che c'ho da dire su questo che la mia conferma che è una grande luta è confermata a vita già quando stavo a mani rubentino che ha già sempre schifato alla lettera perché chiud su su se kill ma chiud su su se kill non ci potevano stare per un semplice motivo convocazioni nazionali parlo solo di un caso mi ha portato a Sturaro e mi ha lasciato a casa il miglior centrocampista della serie A di quest'anno giudicato dalla UEFA miglior passaggi azzeccati titolare e si è portato un certo Sturaro che è un panchino e come presenza si deteneva come titolare 5 o 6 vorrei capire che logica ha adottato questo sito e l'ho conto questo parrocchino topato e zulluso che non tiene manco il capito suo in capo perché chi è un zuzzuso e un zulluso quanto è schifo mamma voglio schifare la lettera ogni parola che forma un nome suo e un nome è schifo non c'è niente voglio capire con quale criterio mi ha portato a chi beh con cosa ci ha potuto pensare perché rubendino perché rubendino perché se no manca a fare la posta sponsor anche dell'Italia sulla della nazionale italiana è fia beh preciso quindi si ha portato in signe in signe si trova a giocare in nazionale ma no perché ha meritato che ha meritato sicuramente però si trova a giocare in nazionale è stato convocato perché se non convocava nemmeno a lui voglio succedere una guerra mediatica una guerra mediatica la succedere proprio un putiferio un putiferio esagerato perché però poveramente è inutile che cade nel ridicolo questo Conte cade nel ridicolo mi porti a Sturaro e mi lasci a casa Giorginio un giocatore che è sempre il giocato titolare nel Napoli miglior centrocampista del campionato italiano come passaggio azzeccato e via dicendo sto Sturaro ma mi ricorda a me che pippa ha fatto ne conto sull'uso si chelotto ma mi dici a me che credere perché rubentino ti hanno imposto di fare come ti hanno imposto con insegno perché se no tu tu si chelotto tu non ti portava si chelotto rubentino si che merda che non ti ne capito dove erano tu in capo perché non ecco non si può manco spiegare perché quando io mi andavo stavo tutto zulloso stavo pelato zulloso ma tiene una parrucca esagerata a che parte ti hai fottuto ma dice a che parte ti hai fottuto di capito a quale morta io ti scavacciati da capo questo ma dice zulloso quando ti schifo poi dite che io essere per forza contro la nazionale ma non perché ma posso mai fare una nazionale che ha maggior patto sono tutto si chielotto rubentino posso mai di fa voi mi dite vicino a me ma porti di loro dici si ma è la tua nazione ma come perché la mia nazione quando pagano da ogni stadio di tutti italiani mi dicono che io non sono italiano ed è vero perché io sono parte europeo che è totalmente diversa voglio far capire quindi per quale motivo di fare una nazionale io la nazionale me la guardo perché non tengono quattro fa si ma guardo perché non tengono quattro fa ma guardo perché vi insegno dolare ne dubito ne dubito perché sarà l'ultima scelta di Antonio Conte è stato convocato ma sarà l'ultima scelta mettete la per il capo perché sarà l'ultima scelta spero che lo farà giocare il titolato ma guarda nazionale guardare come gioca e ti farò lorenzo insegne perché è partenoveco un bambino ti farò ma non fare nazionale perché ogni voto che stati voi non siete napoletani voi non siete italiani e che sapete dice quindi in questo momento perché ma si sente italiani sull'inconvenienza vostra vi sputo un bacio così ma perché la sputa questa mia acqua e colonia va di stile pura e va profumare va profumare che stiamo fatto per quale vuol dire un messaggio a qui ennesima volta più schifate che la caite schifate chissà voglio un bacione è sempre solo forza nato sempre perché tutto riesce è sempre forza insieme agli europei forza insieme perché si si chiedono tra il bandino in nazionale in attivo proprio perché mi hanno fatto tuo stomaco e perché sinceramente quando vado con tu stadi non sono italiani quando vado con tu stadi non sono manco italiani poti fare quindi sono parte europeo forza Lorenzo insieme un bacio noi e forza Napoli a Grazie.